Una vittoria convincente contro Roma nell'ultima di campionato, un campionato chiuso al terzo posto, aspettando i play-off. Sì, praticamente io questa partita per noi eravamo già a terza, se vince il paese per noi è uguale, però io ho detto ai ragazzi dobbiamo giocare lo stesso, perché io ci tengo a vincere vittoria sempre, soprattutto in casa io ci tenevo questa partita, questa vittoria. È arrivata una vittoria netta, un successo per parte, ancora una volta tutti i giocatori hanno dato risposte importanti. Sì, infatti, perché su 3-0 l'ho fatto entrare Seretti, diciamo la partita sulla gatta è molto difficile, però lui ha mantenuto, è stato molto bravo e sono contento, sono contento tutti i quattro ragazzi. Come si arriva adesso ai play-off, play-off da terzi in classifica, servirà davvero una grande impresa all'andata, probabilmente, per poter poi giocarsi le proprie carte a ritorno. Sì, infatti, ora noi contro Caralla dobbiamo fare pre-off, praticamente l'ultima partita abbiamo fuori casa e appareggiato, io ho molto fiducioso dei ragazzi, perché abbiamo giocato, lì quasi quasi ce l'ho fatta vincere, perché su 3-2, Seretti pure ha preso la partita, vinceva 2-1, quindi molto possibile possiamo fare, io ho molto fiducia dei ragazzi, quindi ce lo possiamo fare. In questa stagione è stata vinta la Coppa Italia, sono stati raggiunti i play-off per lo Scudetto per la prima volta, è davvero un grande cammino quello della Top Spin. Sì, questo sì, perché noi l'obiettivo è questo, però la Coppa Italia abbiamo vinto e non ci aspettavo, perché pensavo arriviamo al finale, però vincere non ha pensato nessuno, però ce l'abbiamo fatto, ora svegliamo bene pure il play-off Scudetto. Scudetto 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 Grazie a tutti